carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di gloria polo stiamo ripercorrendo con lei le tappe della sua infanzia abbiamo visto la volta scorsa diverse belle cose e ha iniziato il tempo la sezione del capitolo dedicato alla sua vita fino a 12 anni abbiamo visto la volta scorsa che ci siamo fermati alla vita da neonata non mi ricordo se la vita di neonato la vita di bambina non ho avuto tempo di controllare però pazienza adesso riprendono e leggere dalla mia vita da bambina tanto paragrafo molto breve e molto importante per questo dovesse essere un ripetita facciamo che vedi da you want lo leggo rapidamente e riprendiamo subito da qui non mi non mi dilungo troppo nelle introduzioni perché qui ci abbiamo parecchio da fare e quindi procedo con la lettura sono un istante che quindi poi la mia mamma intenta ad insegnarmi a pregare e ad amare assolvendo così ad uno dei suoi compiti primari che condivideva con mio papà vigilare sulla mia anima strutturando cristianamente la mia coscienza una mamma presente orante e curante dei suoi figli è un vero e proprio soldato di cristo grazie a lei la mia anima continuò a essere piena dell'amore del signore potei dare a dio e al mio prossimo ciò che di esso traboccava dal mio cuore lo riversavo principalmente su coloro che ritenevo poveri senza rendermi conto che materialmente lo ero anch'io non me ne rendevo conto perché possedevo la vera ricchezza dell'unione con dio amore e agivo felicemente in conformità alla vocazione scritta nella mia anima vocazione alla cui traccia non era stata ancora coperta da una vita di peccato provate a domandare ad un bambino di 4 5 anni che non passi tutto il suo tempo davanti alla televisione cosa voglia fare da grande vedrete che vi risponderà di voler fare il medico per sanare le persone oppure di voler fare il poliziotto per proteggere la gente eccetera io faccio una piccola glossa di cicero prodomo suo vi dirà di fare il sacerdote eccetera per salvare le anime eccetera chiusa parentesi con ciò intendo dire che il bambino non inquinato percepisce molto bene i propri talenti e come si devono essere spesi purtroppo quando il bambino cresce acquisendo dall'ambiente in cui vive comportamenti e idee sbagliati tale percezione si affievolisce fino a confonderlo quando poi viene addirittura a traumatizzarlo dai suoi stessi genitori rischia di perdersi completamente questo è proprio ciò che mi capitò c'è un piccolo pit stop veloce ma non troppo e allora qui sappiamo bene che la mamma di maria di gloria polo era una mamma eroica e che stava facendo egregiamente il suo dovere di mamma e soprattutto di educatrice alla fede non così come ben sappiamo il papà e la nota questo speriamo insomma che i genitori specialmente dei bambini ancora piccolini che sentissero queste cose se lo ricordino bene i ragazzini non si lasciano davanti alla televisione e adesso ci abbiamo davanti giochetti giochettini cellulari io gli oli miei cari lo capisco anche se forse non mi rendo conto non avendo un'esperienza diretta che ci vuole tanto sacrificio cioè tu metti un ragazzino davanti alla televisione quello sta lì guarda non rompe come si dice nel linguaggio prosaico feriale è però punto interrogativo gli fa bene stare ore e ore davanti alla revisione stare ore davanti al tablet a giocare giochetti davanti alle playstation queste cose qui non proprio e poi attenzione alla doppia responsabilità dei genitori la più grave è troppo traumatizzare un bambino che sapeste un sacerdote quante ne sente di queste storie è un bambino traumatizzato tate proprio tranquilli parlo in termini generici quindi assolutamente possibili con farà una vita di che un disastro farà una caterva di peccati mortali ve lo dico proprio traumatizzato garantito però non c'è solo il trauma c'è anche il crescere in ambienti con idee e comportamenti sbagliati i ragazzini figlioli miei cari sono spugne e assorbono dai genitori guardate che io faccio sempre il parallelismo tra genitori e sacerdote perché la stessa cosa non è quello che noi diciamo ma è come noi viviamo quello che fa la differenza io se posso dire uno dei complimenti più belli che mi hanno fatto in vita mia non è relativo a quello che dico a quello che faccio sapete qual è? mi ha detto qualcuno e il che insomma è parte che mi rallegra molto ma mi fa anche capire molte cose ha detto vedi a prescindere da quello che tu dici uno può essere d'accordo o non d'accordo può amare o odiare a seconda dei punti di vista ma una cosa è certa che traspare che quello che tu dici tu ci credi tu ci credi e fa parte della della tua vita ma capite che questo è importantissimo questo qui perché il messaggio che passa è come dire è positivamente devastante positivamente devastante quindi questo vale enormemente per i genitori cioè adesso faccio un esempio grossolano come fai a dire a tuo figlio non dire le parolacce se te le sente dire come fai a dire a tuo figlio non fumare se tu fumi la notte io ti dico che non devi fumare perché io mi sono fatto tanto male però ancora fumi e quindi tu non devi fumare ma non sono credibili queste cose no ok e andiamo a vedere qual è il trauma ricevuto pensate non aveva ancora compiuto tre anni guardate io ripeto non voglio far venire il magone ai genitori però facciano attenzione perché ma che succede poi dinanzi al signore quando si va dinanzi al giudizio di Dio ci sono alcuni ci raccontavo io ero un giovanissimo prete Monsignor Petrocchi che oltre che essere un ottimo sacerdote un ottimo vescovo un raffinato teologo perché la dogmatica la conosceva proprio bene e non che c'era ma era pure in filosofia era anche uno psicologo e psicoterapeuta proprio con il tesserino in atto lui ci raccontava sempre che esistono studi ma questo ciò raccontava ormai purtroppo sono dieci anni che è stato ahimè trasferito quindi sicuramente è prima di dieci anni fa ma io diciamo che sono entrato in contatto con lui dal 2000 quindi potrebbero anche essere 20 gli anni e anche perché che mi ricordi sono cose che ci diceva già da quando ero ancora seminarista che studi recenti fanno comprendere che dal grembo della madre cominciano i ragazzini ad essere condizionati dai comportamenti dei genitori e non soltanto dai comportamenti che ne so della madre come dire corriere con con i verberi fisico organici da quello che la madre beve mangia fuma che ne so ma anche dal tono della voce della madre dal tono della voce del cioè se il padre gli strilla la madre il bambino se ne accorge e non è una bella percezione è l'ambiente queste cose valgono molto cioè i genitori capiscono di avere un compito veramente formidabile impegnativo molto impegnativo io capisco anche perché i genitori poverini ma io non è che sono santo ho capito manco io sono santo però dobbiamo stare attenti che alcune cose non dobbiamo farle dobbiamo provarci dobbiamo impegnarci perché gli effetti sono devastanti non avevo ancora compiuto tre anni ero immerso in un sonno pacifico quando un trambusto mi svegliò apri i miei orecchi i miei occhietti carico di sonno e di spavento e vidi i miei fratelli maggiori correre a nascondersi uno dentro il forno e l'altro che era nato subito prima di me che allora aveva dieci anni dietro una porta ancora non avevo compreso cosa stesse accadendo che mia madre mi prese dal lettino e mi mise sotto una mensa sulla quale stese poi un mantello e mi disse accuratamente amore mio non uscire di qui non uscire di qui la vidi poi andare a nascondersi dentro un grande armato a muro e poi silenzio la strana quiete tombale creata sia che tutti furono nascosti venne improvvisamente interrotta da un forte calcio sferrato alla porta della stanza la porta si sparancò e vidi con orrore quale fosse il pericolo da quale stavamo nascondendo mio padre che stava rincasando ubriaco dopo tre giorni di gozzoviglie con gli amici e le amanti quando la porta venne violentemente spalancata dal calcio sferrato da mio papà mio fratellino rimase schiacciato tra la porta e la parete non riesco a immaginare il dolore che provò udì il suo intrattenibile urlo di dolore che lo fece scoprire dal mio papà il mio fratellino scappò nell'estremo tentativo di sfuggirgli ma i suoi sforzi risultarono vanni perché fu da lui acciuffato e brutalmente scaraventato contro una parete pensate questo che animaletto bello ruspante che era mia madre che aveva sbirciato dal suo nascondiglio questa raccapricciante scena uscì allo scoperto nonostante fosse nuovamente in stato interessante si avventò contro il mio padre ottenendo però solo di vedersi scaricare addosso una parte delle brutali percosse destinate al mio fratellino io vedi tutto da sotto la mensa con i miei occhietti spaventati di bimba fragile in difesa tendente a ingigantire tutto perché in quanto bambina era per me quasi tutto inusitato si potrebbe pensare che il mio racconto andrebbe quindi ridimensionato ma in realtà quanto vedi nel libro della vita non solo mi insegnò che non dovevo ridimensionare il mio ricordo ma lo dovevo integrare con quanto il mio occhio umano non era stato in grado di vedere vedi nel libro della vita dunque che mio padre era posseduto da un orribile spaventoso demonio gigante il quale approfittando del suo stato di semi in coscienza indotta dall'alcol utilizzava il suo corpo adesso ne abbiamo sentito un'altra questa sera era questa bestia infernale che agiva in lui mio padre era un uomo molto forte al punto che gli erano state multate le sue mani avendo più volte provocato la rottura di arcate dentali e di mandibola nelle risse ma la bestia potenziava ulteriormente la sua forza rendendola più che brutale vedi però anche che in soccorsa da mia povera mamma così tanto coraggiosa venne in aiuto il suo angelo custode fu lui a vincere la bestia infernale mio padre dunque non uccise il mio fratellino solo perché la misericordia di dio e apostolo frena questa barbaria satanica arrivo alla fine poi facciamo evidentemente una pausa questa esperienza impresse nella mia memoria profondi e inderebili segni come d'altronde altrettanto fecero tutti gli altri comportamenti di mio padre comportamenti che erano il corrollario di una abitudine eccetera nel bere violenza menzogna non curanza lussuria infedeltà essi generarono in me dei comportamenti dei modelli comportamentali scusate ed emozionali negativi che con il tempo quando cioè acquisivo scienza del peccato divennero peccamimosi ora dopo che la volta scorsa abbiamo visto che cosa succedono vi ricordate no le conseguenze degli delle iniziazioni sessuali preventive quindi degli spiriti immondi che si attaccano addosso che si appiccicano agli organi genitali eccetera eccetera no agli ormoni ecco oggi abbiamo visto un'altra cosa importante cioè fare certi tipi di peccati apre le porte ai diavoli cioè la liberazione fatta qui è abbastanza forte cioè c'era il padre ma il padre non era il padre in quel momento era posseduto e quindi c'era il diavolo che agiva attraverso di lui attenzione questo non vuol dire la deresponsabilità ma era il diavolo che agiva attraverso di lui condurre l'innocente ha fatto niente perché lui si è messo in condizione di poter aprire quella porta al diavolo con i peccatacci che ha fatto però questo è un modo diciamo così uno dei tanti per far comprendere che cosa significa consegnarsi al peccato significa aprire le porte ai diavoli che possono giungere anche a fare queste cose e per riguardo della mamma e del suo angelo custode qui dice ci ha messo una mano il cielo perché altrimenti questo avrebbe ammazzato il figlio sono cose abbastanza pesanti e su cui meditare e qui Gloria nel paragrafo seguente fa delle considerazioni quanta responsabilità ha un genitore se è vero come è vero e lo testimonio perché lo vidi nel libro della vita che il peccato di ciascuno danneggia il prossimo come un frutto marcio fa marcire la frutta attigua quanto più il peccato di un genitore danneggia i propri figli attenzione a quello che dice il cattivo esempio dei genitori che equivale ad un processo di progressivo asservimento dei figli ai demoni è agli occhi di dio una cattiva amministrazione del talento genitoriale talento donato loro per essere strumenti di salvezza dei propri figli nel purgatorio mio padre che come ho detto era presente al mio giudizio particolare si rese conto di aver consegnato i suoi figli su vassoi d'oro al potere di quelle tenebre che continuavano a tenerli asserviti al male per mezzo delle ubriachezze e del libertinaggio fu lui infatti che da Quilegno in nota c'è scritto così si chiamano i cittadini del distritto di Quila in cui si trova il comune nativo di Giliermo Polo e di Gloria che da Quilegno doc del paese di Hobo situato nelle cosiddette Tierra Scalientes zona di grandi bevitori cercò di iniziare tutti i miei figli all'uso scriteriato della birra e della guardiente che è un distillato ottenuto dalla canna da zucchero fin dalla fanciullezza uso che poi ti generano nel tempo in abuso solo io fui preservata dall'assumere alcol in età infantile perché ero sempre attaccata alla mia mamma quindi un genitore che da cattivo esempio che non fa il suo ruolo avvia innesca un processo di progressivo asservimento dei figli e demoni e gli riconsegna in mano su un vassoio d'oro ai diavoli anche qui e attenzione all'alcol i bambini l'alcol non lo devono bere non bisogna fare gli sciocchi quando diventeranno grandi all'età di circa 4 anni iniziai ad avere delle esperienze straordinarie questo paragrafo si chiama esperienze straordinarie da bambina mi si presentavano in visione onirica delle anime appena morte che non conoscevo e che erano vissute chissà dove ognuna di esse mi mostrava il modo in cui era morte morta scusate se per morte naturale o per incidenti o se erano stati uccise vedevo la loro angoscia e tanto sangue era terrificante finivo sempre per urlare svegliandomi e svegliando tutti quelli che nella mia famiglia avevano il sonno più leggero inizialmente raccontavo le visioni a mia sorella maggiore a Maria Rustari la primogenita per averne spiegazioni e conforto ma quando mi resi conto che a causa dei miei racconti non solo mi canzonava scherzosamente dandomi della pazzarella di casa o della bugiarda ma che questa opinione dei miei familiari andava sempre più robustendosi divenendo un vero e proprio stigma mi tendi solo per me con fatica e paura le mie visioni le mie esperienze però non si limitavano alle visioni oniriche un giorno quando mia mamma mi portò al cimitero per recitare le preghiere in suffragio delle anime dei defunti ebbi anche lì le medesime visioni ero perfettamente sveglia le anime dei defunti mi apparvero urlando la loro richiesta di aiuto e mi mostrarono la loro storia personale fino al momento della loro morte ero terrorizzata mia madre non comprendeva perché le volte successive mi rifiutassi categoricamente di ritornare al cimitero sebbene fosse giunta a pensare che non volessi pregare non le dissi le vere ragioni del mio rifiuto per evitare ulteriori dolorosi giudizi queste visioni mi tormentarono per anni grazie a dio all'età di nove anni si affiancarono alle visioni oniriche dei moribondi dei defunti le bellissime visioni nella santa messa provai a condividerle con mia sorella maggiore ma ricevetti un netto stai zitta sempre le solite bugie taci e tacqui tanto mi condizionò lo stigma di bugiarda che alla fine vi diventera realmente mettendo in atto quella sorta di strategia disfunzionale che mira a evitare il giudizio altrui tanto potere ha la parola sugli adulti figuriamoci sui bambini nel libro della vita mi vidi nel periodo in cui iniziai ad acquisire coscienza del peccato questo è un altro paragrafo vidi che le mie azioni peccaminose deliberate attenzione a deliberate avevano il potere di macchiare la mia anima ogni volta che peccavo con omissioni o azioni la mia anima veniva ricoperta di spiriti immondi e da bianca che era si macchiava a guisa del mantello di un cane d'almata vidi che quando non facevo ciò che mi diceva la mia mamma dicevo bugie ero negligente pettegola invidiosa in una parola peccavo fuoriusciva da me l'amore di Dio e quello rimasto si inquinava di egoismo esattamente come quando si inserisce in un bicchiere di acqua limpida della terra secca fuoriesce l'acqua limpida per far spazio alla terra e l'acqua rimanente si intorbidisce fino a divenire fango se la terra non viene tolta velocemente da questo punto della mia vita in avanti la voce meravigliosa a commento di quanto andavo vedendo nel libro della mia vita sottolineava prima le mie omissioni e poi le mie azioni peccaminose e di entrambe mi mostrava le conseguenze ed era per me molto doloroso al mio nuovo comportamento peccaminoso mia mamma rispondeva giustamente con la correzione io in questa fase della mia vita finivo sempre per obbedirle ma solo dopo qualche mia timida resistenza dovuta alla confusa convinzione che lei non mi amasse veramente e che non volesse la mia felicità quindi attenzione anche qui se abbiamo una visione noi sappiamo no che il peccato attenzione qui si parla di azioni peccaminose deliberate e gli esempi che fa bugie atto deliberato e qui c'è ancora un sacco di gente che le bugie le dice e ammette di dire ma sono bugie piccole sono bugie di scusa va bene se uno ha voglia di venire ricoperto di spiriti immondi prosegua anche a dire le bugie di scusa ora attenzione che nessuno dei peccati che ha nominato qui sono peccati mortali bugie negligente pettegola invidiosa insomma che io ne sappia a meno che non sono tutti quanti i peccati veniali ma attenzione il peccato veniale deliberato questo è un problema chi dice ama veniale quindi lo faccio lo stesso sta proprio ancora lontano anni luce perché anche il peccato veniale produce come effetto di venire ricoperti di spiriti immondi e c'è questa bellissima immagine bellissima come immagine un bicchiere pieno d'acqua tu ci metti un po' di terra dentro è chiaro che lo spazio occupato dalla terra l'acqua esce e quella che rimane viene intorbidita fantastico quindi cosa dice la chiesa i peccati veniali raffreddano la carità quindi che significa la fanno diminuire quindi vuol dire che un po' se ne va e alimentano quelle diciamo così quelle miserie quelle disfunzioni quelle tare che abbiamo per il peccato originale e il peccato fa tanto più danni questo lo si sa si è tombato da guini in maniera come dire continua quanto maggiormente coinvolta la volontà ecco perché il peccato il peccato in senso stretto è sempre deliberato sapete che per fare un peccato mortale ci vuole la materia grave la piena avvertenza è il deliberato consenso mentre il peccato veniale come questi che narra qui gloria così facciamo ogni tanto un po' di ripasso del carismo c'è il deliberato consenso l'avvertenza avendo l'uso della ragione era consapevole che stava peccando ma la materia è lieve però la materia è lieve ecco perché a me faccio questa cosa ma è peccato veniale è peccato mortale non è sempre facile fare un discernimento perfetto perché l'esempio emblematico a mio avviso due ce ne stanno di comportamenti comunque tossici d'accordo perché esistono dei demoni preposti a queste cose date a vedere Don Pasqualino Fusco e gli altri esorcisti rilevanti le parolacce e il fumo esiste un demone del turpiloquo ed esiste un demone del fumo domanda la parolaccia peccato veniale o peccato mortale punto interrogativo io ho risposto in altre circostanze il fumo qualcuno pensa che non sia nemmeno peccato fumare qualcuno qualcuno pensa che sia un peccatuccio e che diventa magari un grosso peccato solo se uno sfuma tre pacchetti di sigaretta al giorno e qualcuno pensa che sia peccato mortale anche accendersi una sigaretta mortale ve lo dico perché sono attestate queste posizioni distinte quindi chi c'ha ragione la chiesa non ha preso nessuna che io sappia nessuna posizione magisteriale ufficiale su queste cose quindi nel catechismo non si trovano le risposte a queste domande ergo che vogliamo fa la risposta prudente è se anche c'avesse ragione chi sta in una posizione minimalista non massimalista quindi il fumo se sa manco se è un peccato sicuramente è un vizio però sarà al massimo un peccatuccio la parolaccia ma si la parolaccia che vuoi che sia la parolaccia ormai dicono tutti quindi peccatuccio come un peccato di gola io non sono su queste posizioni lo dico subito quindi ma avessero anche ragione non è mai prudente non è mai comunque da fare perché se anche fosse una cosa piccola comunque c'erano dei demoni che ti sappiccicano addosso e sappi che ci sono dei demoni incaricati di far commettere questi specifici facciamo così di far porre in essere questi specifici specifici comportamenti ergo che facciamo quindi ma se io mi metto il rossetto rosso c'è una famosa catechesi di di dondo lindo ruotolo ascoltatele cioè qua la gente i miei followers purtroppo conoscono poco il mio sito web perché adesso col fatto che ci stanno youtube e tutte le piattaforme podcast il sito web chiaramente è rimasto un po' ma nel sito web ci sono delle cose che in giro non ci stanno per esempio dei pezzi rari che sono le catechesi di dondo lindo ruotolo con la voce sua non si sa chi è riuscito a registrarle con quali macchinari a quei denti si non si sentono benissimo si sentono un po' così alcune veramente la qualità è pessima altre discreta cioè questa che fa morire dalle risate no? dice e dice certe donne vengano a farsi la comunione con le labbra che si arrosse come non mai e poi mi dicono ma è peccato veniale posso farlo non posso farlo è peccato e andrà a vedere quello là che gli risponde le catechesi le catechesi di dondo lindo le catechesi di enrico medi tutte caricate sul mio sito web si trovano anche in giro ma non è tanto facile forse di qualcuna c'è stato fatto anche qualche video su youtube ma sono veramente dei pezzi rari dondo lindo a mio avviso il processo di canonizzazione è rimasto a servo di dio ma quando la gente di napoli andava a trovare padre pio padre pio gli dice ma che ci venite a fare da me se avete dondo lindo a napoli una frase del genere detta da padre pio enrico medi che era figlio era uno dei figli dei leggendari figli spirituali di padre pio insomma mi ricordo c'era credo sei figli c'aveva anche enrico medi sei figlie tutte femmine andatevi a sentire insomma le catechesi che faceva un uomo di scienza fuori dal comune ma un uomo anche di fede fuori dal comune andatevi a fare una passione non è che voglio far pubblicità al mio sito a me non interessa nulla io non cerco la fama degli uomini però siccome ci stanno dei tesori caricati e non è una cosa che ha molta visibilità che è molto è abbastanza indicizzata perché è abbastanza comunque visitato però molto meno per esempio del canale youtube o di altre o di altre realtà però ci sono nell'area download che bisogna cercarla nel credo che ci si si è anche dalla home comunque c'è almeno una tendina in alto a destra ci sono delle perlette preziose che secondo me un'occhiata farebbe bene anche perché si può tutto scaricare tutto quanto se si può dire questo neurologismo downloadabile e quindi perché no andiamo avanti con la lettura nel libro della vita vedi che la mia erronea e confusa convinzione del disamore di mio amore nei miei confronti convinzione che mi portavo dietro da quando iniziai a far uso cosciente della ragione fu la conseguenza di un trauma personale prenatale che lei inconsapevolmente mi cosò con il suo rifiuto di avermi inaspettatamente concepita il suo rifiuto si fondava sul timore di dover affrontare le fatiche della gravidanza dell'accudimento dell'educazione di una nuova figlia senza poter contare pienamente sull'aiuto del proprio marito filigrafo e alcolizzato e dovendo nel contempo dedicarsi anche agli altri quattro figli il più piccolo di cui aveva solo sette anni avete capito che cosa ha detto quella cosa che vi stavo dicendo prima cioè gli studi di Monsignor Petrocchi che ci ha detto sono qui adesso attestati allora questa qui ma vi rendete conto che roba ha interiorizzato nonostante alcuni comportamenti positivi e propositivi della sua santa mamma l'idea che non le volesse bene e perché a causa del suo di questo trauma prenatale che lei inconsapevolmente mi causò perché con il rifiuto di avermi inaspettatamente concepita era una gravidanza inaspettata e lei sta dicendo che la madre non l'ha accettata da subito anzi si è cominciato a preoccupare agitare dice ma che faccio c'è un altro figlio c'è un giard di 4 più piccolo ha 4 anni c'è un mio marito che è un debosciato delinquente come faccio e quindi probabilmente ha avuto difficoltà a metabolizzare questa quinta gravidanza effetto la ragazzina cresce pensando che la madre non gli voglia bene se qualcuno c'è mai pensato da una cosa di questo genere quindi vedete anche le interconnessioni che ci sono cioè purtroppo questo l'ha spiegato Giovanni Poro II per esempio nella mitica esortazione apostolica riconciliazione e penitenzione che non c'è neanche un peccato di pensiero che rimanga soltanto dentro di noi non è un fatto tra te e Dio diciamo beh un fatto per cavolo di pensiero a chi fa danni un peccato di pensiero pensiero impuro a chi fa danni a me se ci credo no non fa danni soltanto a te fa misteriosi danni fuori di te io anche di questo nelle cicli che sono io per poter amare dal non senso la vita di cielo non ho parlato tante volte cioè la dinamica del male è misteriosa ma reale cioè io non so faccio il peccato di pensiero impuro punto prima non so quali danni produce nella mia anima oggi mi abbiamo sovruto qualcuno no c'era pensato che con una bugia di scusa arrivano i demoni che diceva voglio usare il termine deciso perché ricoperti di spiriti immondi a guisa di mantello gliel'aveva mai detto nessuno questa cosa qui se faccio un peccato impuro consentito che è un peccato mortale che succederà non lo so se più avanti lo dice perché io questa nuova versione me la sto gustando perché conosco bene l'antica e conosco la testimonianza di Gloria Polo quindi non mezzarderei mai andare a fare una cosa completamente al buio però me la sto gustando con voi io stesso così insomma quindi non lo so se lo dirà più avanti che cosa quale effetto produrrà sulla mia anima e attenzione quale effetto produrrà fuori di me quale danno farà fuori di me perché qualche danno lo fa siamo tutti nella stessa barca quindi questo vale cioè non è che io lo dico questo vale anche per me andiamo avanti la mia prima confessione adesso vediamo che ho combinato la prima confessione ero piccola traumatizzata parzialmente deviata dal cammino dell'amore e ingannata in una parola la mia anima era macchierata dal peccato personale e audita audite da quello familiare l'ho spiegato nel ciclo di catechesi chi sono io per poter amare arcaico adesso vedremo di riesumare anche quello se Dio vuole e in quello più recente dal non senso della vita di cielo che tratta fattispecie analoge quello che è successo nella nostra famiglia non è indifferente per noi non ci possiamo crogiolare dicendo diciamo tutto quello che sono non è colpa mia è colpa della mia famiglia no no e lo vedremo che è no anche da quello che ci racconta Gloria Polo però quello conta e come e io quelle cose lì devo in qualche modo affrontarle devo sanarle devo perdonare forse devo farci un pochino di preghiere devo interiorizzarle devo metabolizzarle altrimenti altrimenti è come se tu c'avessi una sorgente inquinata che produce veleno dentro di te e questo non ti fa bene ok nel libro della vita vi dico un evento avrebbe lavato la mia anima macchiata dal peccato la prima confessione la suora che mi preparò alla ricezione del sacramento della riconcidazione era una donna piena di Dio che compiiva il suo dovere sapendo di avere una grave responsabilità si era molto ben preparata pregava e digiunava per noi bambine affinché le sue lezioni potessero essere un luogo di grazia e allontanati demoni potessimo apprendere a fare un buon esame di coscienza fece con me un ottimo lavoro aiutandomi a comprendere con un linguaggio adatto alla mia età quale fosse lo stato della mia anima e quale fosse la condizione prima per entrare nel regno dei cieli e cioè vivere senza macchia quante riflessioni e domande furlavano nella mia testa che formulate ora in forma matura suonerebbero così ma può l'uomo creatura debole vivere senza macchia la carne il mondo e satana in un continuo ribollire di passioni tendenze e di odio schizzano i loro spruzzi a macchiare gli spiriti e se il cielo fosse aperto solo a quelli che hanno vissuto la senza macchia dall'uso della ragione in poi pochissimi di tutta la moneta entrerebbero in cielo così come pochissimi sono gli uomini che giungono alla morte senza aver conosciuto malattie più o meno gravi durante l'esistenza e allora così è preluso il cielo ai figli di Dio e questi dovranno dirsi io l'ho perduto quando un assalto di satana o una bofera della carne li fanno cadere e si vedono macchiati nell'anima non ci sarà più perdono perché ha peccato nulla cancellerà la macchia che deturpa lo spirito la suora rispose a queste mie domande mi aiutò a completare le mie riflessioni non temere di un timore ingiusto il tuo Dio egli è padre e un padre tende sempre una mano ai figli vacillanti offre aiuto perché si rialzino conforta con mezzi soavi perché il loro avvilimento non degenere in disperazione ma fiorisca in umiltà vogliosa di riparare per tornare di letti al padre ecco il pentimento del peccatore la buona volontà di riparare ambe due nati da un vero amore per il signore detergono la macchia della colpa e rendono degni del perdono divino e quando ti accosterai al sacramento della riconciliazione alle assoluzioni dell'amore del pentimento della buona volontà si unirà potentissima l'assoluzione che Cristo ti ha ottenuto a mezzo dello suo sacrificio candida nell'anima come dopo il battesimo potrai aspirare al cielo al regno di Dio perché la grazia sacramentale ti aiuterà a praticare la giustizia la quale aumenta il diritto che ti dà uno spirito senza macchia di entrare nella gioia del regno dei cieli vi entreranno i bambini e godranno per la beatitudine data gratuitamente godranno perché il cielo è gioia ma vi entreranno gli adulti i vecchi coloro che hanno vissuto lottato vinto e che alla candida corona della grazia uniranno quella multicolore delle loro opere sante delle loro vittorie su satana nel mondo della carne e grande grandissima sarà la loro beatitudine di vincitori grande quale un uomo non può immaginare quanto pianzi per quelle catechesi mi aiutarono efficacemente a comprendere che il mio più acerrico che il mio più acerrimo nemico con suadenti promesse di realizzazione personale e sfruttando le ferite della mia anima mi aveva convinto ad abbandonare la via dolorosa dell'amore altruistico per percorrere il dolce cammino indiscesa dell'amore egoistico che conduceva al precipizio infernale mi fecero percepire il dolore di Dio per l'inganno in cui era caduta e per le ferite che mi ero fatte nel percorrere l'errato cammino vedevo allora confessarmi volevo allora scusate confessarmi per riprendere ad amare come quando ero più piccolo la notte precedente alla mia prima confessione però il diavolo con altri demoni venne a turbarmi instillandomi la paura di confessarmi pregai a un'amore maria e la nostra mamma celeste arrivò con gli angeli crescendo credetti che questa apparizione mariana fosse stata solo il frutto di una mente infantile suggestionata dalle catechesi della sua ma nel libro della vita vedi che ciò accadde realmente il giorno successivo mentre ero in fila per la confessione il demonio mi tentò al sacrilegio insinuando nel mio pensiero la possibilità di non confessare tutti i miei peccati al sacerdote specialmente quelli che a me sembravano vergognosi ecco qui il demonio voleva che la mia anima rimanesse sudicia di peccato lo spirito santo però venne in mio aiuto potei così fare una buona confessione ricevere l'assoluzione dei miei peccati e beneficiare di un'esperienza mistica nel libro della vita vedi che durante la confessione ricevetti il dono di vedere la bellezza mistica del sacramento della confessione sebbene la dividi nel libro della vita non ho potuto conservarne il pieno ricordo perché la sublimità della visione supera le capacità della mente umana ciò che dirò ne ha quindi solo l'ombra ebbene terminata l'accusa dei peccati vedi Gesù sanguinante inchiodato ad una croce la croce non era piantata sul Golgota ma nel cuore del sacerdote confessore mentre stupefatta guardavo la visione che si stagliava maestosa davanti ai miei occhi venne condotta al cospetto del tribunale della misericordia di Dio Gesù sedeva in trono e il demonio teneva in mano le cambiali che avevo firmato ogni qual volta avevo peccato mortalmente divenendogli debitrice della mia anima mentre il sacerdote mi impartiva la soluzione Gesù mi si avvicinò sradicò i miei peccati che io vedevo come delle cosacce orribili schifosamente avvinghiate mi si addosso ed esalanti fettori di brutredine e putrefazione mi lavò nel suo sangue prese le gambiere e le strappò infine disse imperioso è mia ho pagato con il mio sangue il cielo intero si rallegrò di questa vittoria di Gesù e il mio angelo custode che per tutto il tempo era stato a testa bassa ha vinto dalla vergogna per i miei peccati potrei nuovamente alzare lo sguardo verso il trono di Dio e continuare a godere di quella vista io rimasi sommersa dalla pace dalla tranquillità e dalla felicità ero libera il sacramento della riconciliazione è una grazia immensa in quanto tale merita da parte dell'uomo lo sforzo necessario per vincere la vergogna di confessare i propri peccati al sacerdote anche quando il sacerdote non fosse non solo fosse un povero peccatore come qualsiasi altro uomo ma lo fosse molto più di noi merita inoltre la nostra preparazione non possiamo presentarci a questo santo tribunale senza aver pregato lo spirito santo di aiutarci a riconoscere il nostro peccato la nostra abitudine al peccato e l'azione del nostro demonio custode infatti anestetizzano la nostra coscienza fino a desensibilizzarla alla percezione del senso di colpa per i peccati commessi oh amici cari qui chiaramente come potete immaginare dobbiamo sarà molto lungo questo capitolo paragrafo meglio e dobbiamo ripercorrere alcuni passaggi perché qui si parla di cose veramente molto 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 importanti allora la prima cosa la preparazione del catechismo qui c'era una suora che dice Gloria Polo molto molto ben preparata e soprattutto molto intrisa della coscienza della grave responsabilità che c'ha una catechista e Gloria stessa la ricorda con una benedizione dicendo che quel lavoro era stato fatto molto bene e questo addirittura pregava e digiunava perché le bambine potessero apprendere bene gli insegnamenti del catechismo no dov'è che si trova tutto quanto questo zelo e anche questa diciamo competenza e formazione oggi che l'area insomma della catechesi dei panciulli è oltremodo problematica per usare un eufemismo però certamente questo è un esempio eccellente immaginiamo se tutti i catechisti e le catechiste possessero qualcosa del genere strike interessante anche seguire le riflessioni di gloria che diceva qui con tutti quanti questi peccati che gli uomini fanno qua in paradiso non c'era nessuno e qui risponde la suora prima che poi il nostro signore dice guarda l'importante è il pentimento e quindi la confessione e attenzione attenzione la buona volontà di riparare pentimento e buona volontà di riparare che nascano un vero amore per il signore questi anzitutto detergono la macchia della colpa e rendono degni del perdono divino adesso sapete la retorica di questi ultimi 30 40 50 anni rendono degni del perdono divino ah ma perché devono rendere degni ah ma Dio perdono a tutti a prescindere non è vero Dio perdona chi è pentito dei propri peccati non solo ma anche chi è disposto ad assumersene la responsabilità abbracciando tutto ciò che è necessario fare per riparare le colpe commesse Dio questo lo vuole perché questo lo capiamo evidentemente con un argomento a contrario no se questo è è evidente che il signore non perdona chi non è pentito ma nemmeno chi non è disposto ad accollarsi gli oneri di riparare le colpe commesse ripararle il senso della penitenza sacramentale che oggi è diventato un gesto meno che simbolico sarei dire è questo altro aspetto molto importante è questo il dolore di Dio per l'inganno in cui ero caduta e per le ferite che mi ero fatto nel percorrere l'errato cammino ancora il nemico acerrimo sfruttando le ferite della sua anima la via condotta dice di abbandonare la via dell'amore altruistico la via dolorosa per battere quella dell'amore egoistico che conduce all'inferno e il dolore di Dio per l'inganno in cui ero caduta e per le ferite che mi ero fatto nel percorrere l'errato cammino attenzione sta vedendo nel libro della vita allora noi sappiamo che dalla teologia diciamo così speculativa in senso stretto parlare di dolore di Dio potrebbe sembrare una contraddizione in termine perché Dio per antonomasi è impassibile ed è perfettamente felice quindi non può soffrire quindi come è possibile che Dio sia dolori eh amici miei cari come è possibile ci sono tante cose che non si possono ben capire qui si sono sforzati alcuni eseggeti di alcuni non solo eseggeti ma alcuni anche grandi pensatori tipo di gene mi ricordo bene che parlava della passio caritatis di Gesù cioè la sofferenza dell'amore che in effetti è una cosa simile a quella che c'è scritto qui no? quindi siccome Gesù quindi Dio ti ama infinitamente vedendoti ridotto in questo modo ti compatisce e quindi questo in genere è una forma di dolore quando noi compatiamo qualcuno profondamente c'è proprio quella pena non quella pena brutta quella pena diciamo così di di non di commiserazione ma di semplicemente proprio dolorosa repulsione verso qualcosa ma quella che noi chiamiamo pena se è invece compassione la compassione dei mali altrui e dei peccati altrui è una delle opere di misericordia è una cosa bella quindi essendo Dio misericordioso la misericordia significa compatire i mali altrui avere la pietà del cuore letteralmente misericordia corcordi significa cuore in latino quindi Dio era trovato per l'inganno in cui ero caduta e per le ferite che mi ero fatto nel percorrere l'errato cammino quindi sapete cosa anche questo lo ho spiegato in quel ciclo di catechesi cioè il diavolo dice sempre le stesse cose tu ti ritrovi a una certa età in un momento infantile che c'è già delle voragini delle ferite spalancate cosa ti presenta al diavolo la soluzione facile pecca così se ti fai una bella vita tu hai il diritto di farla tutte le sofferenze queste sofferenze saranno compensate e te le dimenticherai perché godrai guardate che questo lo bevono quasi tutti è puerile insomma è sempre la stessa solpa è la storia vecchia di ma se la bevono tutti solo che succede anziché chiudersi le ferite che c'hai te ne apri un'altra 300.000 e ti inguai molto peggio di come stai prima di cominciare la musica quindi infine ho le tentazioni pre-confessione allora numero uno la paura di confessarmi ma quanta gente ha paura di confessarsi io dico ma paura di cosa si certamente c'è la dimensione umana ma noi dobbiamo capire l'ho detto 100 miliardi di volte lo ripeto cioè Dio quello che hai fatto lo sa non è che tu quella confessione la vuoi informare diciamo mazzano cioè nostro signore non lo sa che faccio glielo dico o non glielo dico ma non glielo dico ci si confessa da un essere umano che è un ministro semplicemente perché perché così Gesù ha voluto è uno dei motivi anche per darti come dire la certezza morale di essere assolto perché tu pensi se tu ti confessassi con il signore come fanno i luterani sapete cosa dicono tu devi credere fermamente che la chiara misericordia di Dio ti perdona e il gioco è fatto dico sì il gioco è fatto ma se non mi vengono una montagna c'ho dei macigni nel cuore e qualcuno non mi dice il signore ha perdonato i tuoi peccati vai in pace ma chi mi dirò i macigni nel cuore cioè il confessore se è confessore ma ne ha già sentite di ogni ne ha già sentite di tutti i colori e non è stato messo lì per giudicare la persona o per mortificarlo o per umiliarla no va per aiutarla la paura e pregono a Maria per vincerla e addirittura c'è un'apparizione mariana o quindi la prima cosa è la paura la seconda cosa è il sacrilegio diciamo vabbè me la devo confessare però questo non lo posso dire oppure però questo lo dico ma lo dico non va bene figliore io ho ascoltato tantissime confessioni poche sono veramente confessioni come devono essere la confessione deve essere nuda deve essere umile cioè una confessione generale preparata bene non dura tre ore sapete quanto dura venti minuti massimo perché se una persona prepara cioè la confessione non è andare a raccontare tutta quanta la vita cioè capito facciamo un esempio di una vita sgangherata non è che se tu ti fai un bello schema dici vabbè quante volte sono stato un bestemmiatore allora vabbè da quando ci avevo dieci anni a quando ce ne avevo quando ho smesso a trent'anni a quando ce ne avevo trenta avrò detto nautoterrano dei bestemmi secondo comandamento finito quanto ci vuole dire una cosa del genere tre secondi hai avuto rapporti prematrimoniali con quanta gente dice cinque bene ho avuto rapporti prematrimoniali con cinque persone diverse plurimi plurimi frequenti frequenti se cinque persone diverse sono durate dalle ho perso la virginità a diciott'anni ora ce n'ho fino a trenta che mi sono sposato c'è stata sta solfa finito quanto ci vuole a dirlo non tanto ci sono stati andiamo sul pesante su quello che dice questo mi vergogna ci sono stati rapporti non naturali anche all'interno di persone di sesso diverso lo devi dire con tutte e cinque o con due con due con due e dentro poi rapporti non naturali ce ne stanno due specie differenti sto caricando apposta per far capire allora io dico ho commesso a timpuri tu puoi dire ho commesso a timpuri ma altre volte ho detto quando si confessa ho commesso a timpuri ho commesso a timpuri altro no e poi la cosa meravigliosa quindi vince anche questa tentazione e poi bellissima questa immagine la croce nel cuore del confessore tutti quanti i peccati che erano radicati e come dire attaccati dal bostic dei diavoli Gesù dice quest'anima è mia ho pagato con il mio sangue ha fatto la professione come Dio comanda si è pentita si via e se ne vanno tutti è rimasto sommerso dalla pace dalla tranquillità e dalla serenità quindi questo sacramento è una bomba atomica e dobbiamo pregare allo Spirito Santo perché tutti quanti noi ultima cosa che dico siamo anestetizzati pensiamo di non averci peccati la sera andiamo a letto facciamo un esame di coscienza che ho fatto ma tutto sommato niente tutti pensiamo questo qui allora dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che ci dia un pochino di luce e che ce li faccia vedere beh la prossima volta riprenderemo da qui e ci aspetterà uno step successivo o un bellissimo paragrafo sui sacerdoti la prima comunione eccetera Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga